Grande danza in prima nazionale alle bolle Nardini, l'audace creazione di Massimiliano Fuxas, realizzata nel 2004 per celebrare i 225 anni di fondazione della celebre distilleria di Bassano, un'architettura che è ormai diventata il palcoscenico ideale per il balletto. Protagoniste quest'anno due splendide danzatrici spagnole, Sandra Marin Garcia e Ione San Martin, che presenta l'ultimo lavoro creato per lei da William Forsyth, uno dei più interessanti coreografi contemporanei, famoso per spingere il corpo umano oltre i limiti del virtuosismo. Lo spettacolo fa parte del cartellone di Opera Estate Festival Veneto e andrà in scena giovedì 10 luglio alle 21.20. Dentro le bolle di vetro i posti sono limitati e quindi la prenotazione è obbligatoria. Sempre più spesso attori e ballerini calcano palcoscenici non canonici. È questo il futuro del teatro?